L'idea di chiudere il cavalcavia Borgo Magno è un'idea quantomeno inopportuna, che mi aspetto venga subito accantonata, che venga messa in un cassetto. Io in questo ovviamente ho dato subito pronta adesione alla raccolta firme che la Lega ha lanciato. Anche il senatore leghista e sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari esprime il suo dissenso alla chiusura della corsia che dalla città porta al quartiere dell'Arcella sul cavalcavia Borgo Magno. L'aveva fatto con un post sui social e lo ribadisce ai nostri microfoni, lui che proprio nel popoloso quartiere padovano vive. Una scelta simile va affrontata insieme alla cittadinanza e agli operatori commerciali che sul territorio lavorano. Sono per chiedere ai cittadini di questa comunità in particolare, quindi non solo dell'Arcella ma anche di tutta Padova, di partecipare, di far vedere come la si pensa e soprattutto chiedere che quel ponte, che è l'anello di congiunzione tra l'Arcella e il centro di Padova, non sia chiuso.